Adama, ti aspettavi l'assist di Zigoni o pensavi concludesse lui nell'occasione che avete avuto nella ripresa? Sì, me l'aspettavo, solo che è rimbalzato, poi l'ho tirato al volo, poi è stato bravo il portiere a pararlo. Come giudichi la tua prova di oggi pomeriggio? È una bella esperienza che ho entrato, ho fatto quello che dovevo fare e ho dato tutto, sono contento. Senti di avere bisogno di crescere ancora e di trovare il ritmo partita in questo momento della stagione? Sì, ho bisogno ancora perché devo ancora trovare il momento giusto, devo migliorare anche, quindi devo andare con calma.